Qui è bello perché si sono messe insieme le associazioni e la realtà delle istituzioni ed è bello che ci siano qui degli amici americani che amano Roma, che l'amano quanto noi. Noi siamo a casa nostra anche quando varchiamo la porta del nostro appartamento, siamo a casa nostra anche quando siamo a Roma. Grazie veramente, grazie all'ambasciatore Torme e agli altri ambasciatori americani, questa è una bella giornata per Roma, grazie. Bravo Roma, bravo Romani, bravo tutti i bambini di Roma che sono venuti qui questa mattina per fare un gran lavoro, hanno fatto tutta questa pittura qui e hanno pulito parecchi muri. La cosa migliore dice l'ambasciatore è che tanti giovani sono stati qui oggi e questo è l'unico modo per creare quell'orgoglio civico che forse manca nella nostra società. Dobbiamo incoraggiarli ogni giorno per positivamente influenzare loro e questo ci avrà ripercussioni positive per tutti noi. Solo alcune parole, vi ringrazio per questo lavoro e per questa bellissima giornata. Vi ringrazio al sindaco Alemano e ai miei colleghi per la sua partecipazione oggi in questa buona opera. Grazie a tutti.